Con questo video tutorial vediamo come inserirsi nelle gradatorie permanenti ATA 24 mesi per il profilo di assistente amministrativo, con la conseguente compilazione anche della sezione titoli culturali. Si tratta di un nuovo inserimento, cioè di un aspirante alla gradatoria 24 mesi ATA assistente amministrativo che entra per la prima volta. La prima cosa da fare è entrare con le credenziali dello speed su istanze online, andare alla prima istanza di riferimento gradatorie permanenti ATA 24 mesi e fare vai alla compilazione. Una volta fatta questa azione si entra in una pagina dove si parla, è scritto le avvertenze riferite al trattamento dei dati personali, della legge sulla privacy e avvertenze di istruzione della domanda. Facendo accedi da questa pagina si entra nella pagina per la scelta della provincia. Scelta della provincia che sarà diciamo obbligatoria rispetto all'inserimento nelle gradatorie di istituto terza fascia ATA o se già presenti in gradatorie ATA di 24 mesi nella stessa provincia in cui si è già inseriti. Facendo accedi si entra proprio nella provincia di destinazione, facciamo l'esempio della provincia di Reggio Calabria, facendo avanti si entrerà in una pagina riferita all'anagrafica dell'aspirante e facendo ancora accedi si entrerà proprio nella compilazione della vera e propria domanda. Una volta entrati nel modello di presentazione della domanda notiamo che abbiamo il modello B1 per i nuovi inserimenti e il modello B2 per l'aggiornamento di una gradatoria in cui già si è presenti, sempre gradatorie 24 mesi. Facciamo l'esempio del modello B1 e della scelta del profilo di riferimento. Andando sul modello richiesto vediamo che ci sono i vari profili tra cui per esempio quello dell'assistente amministrativo, oltre che dell'assistente tecnico, del cuoco, dell'addetto alle aziende agrarie, abbiamo già compilato quella del collaboratore scolastico, infermiere e guarderrobbiere. Facciamo l'esempio dell'assistente amministrativo. Si clicca, si entra in una pagina che va compilata per intero con tutti i dati di riferimento del titolo di studio. Si inserisce quindi il titolo di studio di diploma di liceo classico, l'anno di conseguimento, il giorno in cui si è conseguito il titolo di studio, la scuola dove si è conseguito il titolo di studio, la votazione conseguita, poi se si ha attestato di qualifica specifica per i servizi del campo amministrativo e contabile rilasciato a essenza dell'articolo 14 della legge numero 845 e il 68, si inserisce, altrimenti si lascia in bianco. Poi c'è la modalità di accesso, abbiamo tre modalità di accesso, quella più diffusa è la modalità A, che è il rapporto di contratto a tempo determinato per il medesimo profilo. Si indica sotto la propria responsabilità il fatto che si ha il requisito dei 24 mesi, per la verità 23 e 16 giorni, si mette l'istituzione scolastica con codice meccanografico in cui si sta svolgendo la supplenza, la provincia e a questo punto si può fare l'inserimento anche di questo profilo e il profilo viene aggiornato regolarmente. Da ciò si può poi, per esempio, inserire il titolo culturale e i titoli di servizio. Facendo questa azione disponibile, accedendo a questa azione disponibile, vedete che avete la possibilità di inserire diversi titoli culturali, tra cui per esempio un altro diploma di maturità diverso da quello, diciamo, di accesso al profilo, una laurea breve oppure una laurea specialistica, questa si indica una sola delle due e la più vantaggiosa è quella specialistica o magistrale, oppure una laurea di vecchio ordinamento. Per esempio nel mio caso ho una laurea di vecchio ordinamento, se la volessi inserire, faccio inserisci, aggiungo questo titolo, seleziono la modalità di accesso che il titolo è valido ai fini dell'inserimento, poi faccio che titolo? Titolo di laurea in matematica, inserisco la data di conseguimento che è nel 1992, il 18 giugno del 92, ecco qui il 18 giugno del 92, università degli studi di Messina. e dunque, avendo fatto questo aggiungititolo, si aggiunge il titolo, si aggiunge in fondo il titolo di questa laurea, facendo inserisci e viene indicato pure questo titolo, come per esempio il titolo riferito agli attestati di addestramento per la dattilografia o attestati di addestramento per la professione professionale per i servizi meccanografici, oppure l'idoneità a un pubblico concorso per l'accesso al profilo professionale, l'attestato di qualifica ai sensi dell'articolo 14 e la legge 845 del 78, dunque si possono inserire diversi titoli, tra cui anche titoli come il servizio militare di leva o servizio civile obbligatorio, quello volontario, i titoli di servizi prestati nelle scuole statali, qua si può inserire il titolo che si possiede. Dunque facendo così e inserendo, si aggiunge titolo, ecco abbiamo la possibilità del servizio valido ai fini dell'accesso, dunque per esempio diciamo sì, e qui si indica quale profilo del servizio ai fini dell'accesso, quello amministrativo per esempio, validità del servizio si indica che è valido ai fini dell'inserimento, profilo in cui si è prestato il servizio, quello di assistente amministrativo, e dunque così si compila con riferimenti sempre più specifici, numero alle ore 36, periodo del servizio per esempio, il servizio che è andato dal, facciamo conto, 21-22, dunque dall'1 settembre del 21 al 31 agosto del 22, ecco qui anno scolastico 2021-22, in modo che poi conteggia automaticamente il numero dei mesi e eventualmente dei giorni di riferimento e questo consente di poi dire anche dove sono stati, dove è stato svolto questo servizio, in maniera particolare i periodi se ci sono l'interruzione della retribuzione, per esempio se il servizio è stato svolto al liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria, il tipo di servizio statale, l'indirizzo via Possidonea 1, il comune Reggio Calabria. Non ci sono state interruzioni di carattere di servizio di nessun tipo, dunque il titolo può essere inserito, ecco inserito il titolo completato a questa parte, ecco questo è un esempio di come compilare la domanda anche dal punto di vista dei titoli culturali e del servizio. Speriamo che questo video tutorial sia utile ai nostri telespettatori, seguiteci nei nostri canali social e nel sito www.tecnerascuola.it. Arrivederci a tutti. Grazie.